Tasse alle stelle, pressione fiscale soffocante, come dice Capezzone la soluzione è solo una, taglio a tutti gli sprechi pubblici. Io mi permetto di fare un'osservazione da liberale, meno tasse, meno debito, meno spesa, ma se una famiglia, come accade anche nelle nostre famiglie meno numerose, riesce a fare un taglietto, ma perché per la politica italiana, con i governi di tutti colori, sia chiaro, è difficile fare un taglio? Noi abbiamo mille miliardi l'anno e oltre di spesa pubblica, basterebbe un 2% di taglio di quella spesa e tu avresti un margine significativo anche per tagliare le tasse e far crescere l'economia. Ecco, fatemi dire una cosa liberale un po' forte, noi dobbiamo smetterla di pretendere da noi stessi degli sforzi e non... Prima di continuare con il video però, vi chiedo un favore, di iscrivervi al canale, è gratis, ogni giorno troverete nuovi video, cosa aspettate? Non pretenderli con la stessa forza da parte della macchina pubblica, se tagliamo noi a casa nostra, deve tagliare anche lo Stato e ci sono tanti ambiti dove gli sprechi sono grandi, sono eccessivi, sforbiciando un po' c'è margine per tagliare le tasse e per farci correre più velocemente tutti quanti. Comunque...